Dopo la lunga sosta per le festività riparte il campionato d'eccellenza, subito il big match contro il Giuliano, vi state preparando per questa gara così importante? Sì, credo che queste partite si preparino da sole, ci giochiamo tanto, siamo consapevoli di questo e niente, sono belle, quindi non vediamo l'ora che arrivi domenica. Come è arrivato a questo appuntamento? L'ultima partita pareggiata tra non poche polemiche? Sì, sì, il calcio è anche questo, si vive di episodi, noi non troviamo alibi, dovevamo chiuderla prima, non l'abbiamo fatto e poi nel calcio succede anche questo, quindi arriviamo molto carichi, ci vogliamo riprendere quello che comunque ci hanno tolto all'andata, ingiustamente e niente, come ripeto, sono partite che non si devono nemmeno preparare, bisogna solo giocarle, è bello. Siete in vantaggio in classifica da questo punto di vista e in caso di vittoria potreste allungare? Beh, certo sì, potevamo già farlo, non l'abbiamo sfruttato e sicuramente non è più importante per noi, al di là della classifica perché poi comunque mancano tantissime partite, però sì, diciamo che vincere sarebbe tanta roba. Si provvede una bella cornice di pubblico, quanto è bello per un giocatore giocare davanti a tanta gente? Sicuramente, questa è una piazza importante, loro comunque non ci hanno mai lasciato soli, sarà un'arma in più, il nostro pubblico come sempre, per noi è bello, sì, rende orgogliosi giocare in una piazza del genere. Grazie. Grazie.